ragazzi è tutto vero la lazio sta vincendo 1 a 0 col bayern monaco sta anche cercando di fare il 2 a 0 adesso con felipe anderson sono proprio meravigliato la gara perfetta oggi della squadra di sarri perfetta tutto mi aspettavo tranne questa partita così organizzata così giocata tecnicamente alla grande alla pari con il bayern monaco se non meglio con grinta determinazione io non lo so ragazzi queste squadre la lazio come tante altre a volte fanno queste gare queste partite e mi domando ma perché nelle altre nelle altre gare che non so con un sassuolo con un monza con un lecce con tutto rispetto per queste squadre non giocano alla stessa maniera è vero che la champions league è qualcosa di straordinario ti dà delle motivazioni a non finire però ragazzi a me poi il dubbio mi viene perché è impossibile vedere una lazio di questa caratura in champions league e in campionato alterna alti e bassi più bassi che altri ma non lo dico per sputtere per carità lo dico da sportivo anche se sono tifoso romanista chi mi conosce lo sa sta vincendo 1 a 0 e direi fino a in questo momento anche merita da mente sta in 10 il bayern monaco per un'espulsione giusta di upamecano sul rigore segnato poi da immobile niente da dire certo è vero che il bayern monaco si rende pericoloso anche essendo in 10 uomini è normale ha dei fenomeni assoluti là davanti ma anche in mezzo al campo musiala kane sané muller kim in difesa kim il miglior difensore italiano del campionato italiano dell'anno scorso con il napoli però non vi ha salutato ragazzi un benvenuto a tutti dal vostro enrico caffarelli che vi ringrazia tantissimo per i like per i commenti che leggo sempre tutti e per le iscrizioni per voi è facile scrivervi spingete spingete il tasto iscriviti e non ci vuole nulla no però a me rendete proprio mi rendete felicissimo al settimo cielo con le iscrizioni così cresciamo insieme ragazzi diventiamo un canale che parla di calcio alla grande ancora davanti alla lazio sta cercando il 2 a 0 della vittoria che sarebbe molto utile per la trasferta a monaco a monaco di baviera andare sul punteggio di 2 a 0 partirebbe con un vantaggio niente male niente male oggi devo dire per la lazio mi è piaciuto fino a questo momento mancano tre minuti di recupero ghedon si quantità e qualità ragazzi al centrocampo è stato un rullo un rullo compressore non si fermava mai proponeva gioco e non concedeva nulla agli avversari andava sempre in pressing con anzi va ancora in pressing con cattiveria agonistica eh ci mette sempre grinta determinazioni direi proprio una partita perfetta del del centrocampista della lazio poi mi è piaciuto luis alberto come al solito sue le migliori giocate di questa partita a parte qualche numero di di gain di musiala un po sottotono devo dire eh mi aspettavo molto di più dal bayern monaco questo c'è da dirlo non so cosa cosa gli sia successo questa sera sarà stata sicuramente sicuramente brava la lazio a domare a imbrigliare questa squadra di tuchel che è nervoso in panchina si si tocca sempre i capelli beata a lui che ce l'ha e quindi devo dire mi ha mi ha un po' lasciato perplesso la prestazione della squadra bavarese che a detta di tutti era favoritissima per il passaggio del turno le speranze della lazio erano ridotte all'omicino e invece fino adesso sta vincendo 1 a 0 e presentarsi in germania con questo punteggio non lo so non lo so se è poi così tanto sicura di passare il turno il bayern monaco che può sempre ribaltare il risultato per carità a tutte le potenzialità però presentarsi con una vittoria in germania la lazio potrebbe essere molto pericolosa in contropiede perché il bayern monaco dovrà sicuramente andare a segnare a scoprirsi non può fare una partita difensivista anche se non è nelle nelle corde del bayern monaco difendersi no mettere il pulma dietro dietro la la difesa oggi anche kim e upamecano la coppia difensiva una delle coppie difensive più 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 in voca più forti del panorama internazionale hanno lasciato un po mi hanno lasciato un po' perpresso a desiderare saranno stati i bravi felipe anderson isaxen che si è mangiato un gol incredibile isaxen come ha fatto a mangiarsi quel gol davanti a neuer che sicuramente è uscito bene perché è una prima è una piovra il portiere tedesco queste parate le abbiamo sempre viste ma isaxen poteva fare una scelta migliore però devo dire che il l'esterno biondino della lazio oggi anche lui è stato uno dei migliori come felipe anderson ma la lazio bene tutta ragazzi non non trovo una insufficienza oggi nella squadra di sarri che è stato bravo a prepararla anche dobbiamo dare merito al è finita la lazio fa l'impresa batte 1 a 0 il bayern monaco nessuno se lo sarebbe mai aspettato magari i tifosi laziali ci speravano ma non penso che credevano in questa vittoria veramente clamorosa però meritata meritata e si presenterà a monaco di baviera con questo punteggio e quindi sarà andrà a giocare un passaggio del turno che a detta di tutti era improponibile invece ragazzi vedete la bellezza del calcio è anche questa non mi si non mi si abbassa il telecomane il televisore è anche questa che nessun risultato sulla carta che magari pensi che sia sicuro quando giochi a calcio non è mai così i tifosi della lazio sono in delirio tutte tutti fomentati giustamente l'avrei fatto anche io perciò diciamo che è stata la serata perfetta della lazio e tutto l'ambiente di formello ragazzi buonanotte a tutti lasciate un like seguitemi e venitemi anche a fare a visitarmi sul mio profilo instagram vi lascio il link in descrizione buonanotte a tutti da enrico gaffarelli grazie 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 grazie